Ciao ragazzi di ChicoBlast, oggi piccolo video per farvi vedere ciò che uno di voi mi ha regalato ovvero Gabriele Rausa, detto ciccio, quanto parlo su Telegram che udite udite mi ha donato gentilmente, in maniera anche gratuita uno dei quattro giochi che mi mancava fino ad oggi ovvero se ci riesco, comunque il pacchettamento perfetto perché è proprio su misura del gioco eccolo qua, in Azum Eleven 3, fuoco esplosivo ovviamente io per ringraziare Gabriele andrò adesso a guardare Salvataggio comunque di una schedina che io non avevo fino ad oggi guardate i bei tempi di quando ancora esistevano i librettini delle istruzioni, delle lascalie, delle particolarità addirittura questo si apriva a mo' di Depliant ah che artwork fantastici sembra neanche di vedere in Azum Eleven questo Austin con la sigla dietro, bellissimo e poi una serie di altri articoli qua ancora quando al tempo veniva promosso il 3DS XL non c'era ancora quello nuovo e neanche il 2DS quindi uno dei primi della nuova gamma insomma, scusatemi ma piccolo periodo di nostalgia e adesso andiamo a vedere il Salvataggio perché ovviamente è giusto dare omaggio a Gabriele che me l'ha donato ed eccoci qua con Inazuma Eleven 3 fuoco esplosivo bomb blast io ricordo che questo gioco lo portai 11 anni fa quando usciva al tempo in giapponese perché non ci credesse vada a vedere i video di Master Pokémon 5000 che fu il mio vecchissimo canale ed è il primissimo gioco che io davvero giocai su YouTube probabilmente prima ancora Inazuma Eleven 2 può essere un mio ricordo sbagliato ma è una grande emozione per me rivederlo questo mi fa capire quanto io comunque al tempo avessi quel gioco poi nei meandri dei traslochi e dei spostamenti io ho persi la schedina perché al tempo non ci facevo molto caso e poi nel corso di 11 anni li ho recuperati qua e là la domanda può essere adesso blast quali giochi ti mancano ancora per completare la collezione guardiamoci il video che fa sempre molto piacere mi manca Crono Stones e Tuono che non ho mai avuto perché di fatto comprai fiamma al tempo ho giocato una marea di tempo e via Big Bang Galaxy quindi il gioco in giapponese Supernova ce l'ho per esempio ma Big Bang Galaxy no e Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco io lo so che quest'ultimo si può ottenere a davvero poco pochissimo però mi piacerebbe che magari qualcuno avesse almeno due dei tre giochi in vendita che in qualche modo ci accordiamo per comprarlo così che posso dire fine la collezione di giochi di S3DS del mio gioco preferito Over the Doom Eleven dunque continuiamo per la prima volta con il salvataggio di Gabriele che ovviamente per rispetto ai suoi confronti non andrò mai a deletare mai a cambiare e sempre per omaggiare lui vi regalo questo video che andrò a fare anche un amichevole vediamo un po' anzitutto vediamo un po' quelli che sono i record se vi sono eccoli del gioco 98 ore quindi comunque qualcosa di importante questo è proprio il suo salvataggio quindi per me è un onore qualcuno che mi doni la sua schedina con il suo salvataggio di una vita fa ovviamente Axel Afritte Gazelle Bianchi sono i giocatori che hanno fatto più gol le più presenze Marc Axel Giudi insomma un pochino i soliti sfide un bel po' amichevoli anche e un bel po' di divise anche ottenute ma adesso andiamo a vedere anche la sezione delle amicizie abbiamo Sanil Rahman io manco ricordavo si potesse ottenere questo giocatore perlomeno in questo gioco a quanto pare si poi abbiamo Judy Sharp comunque sono abituato negli ultimi giorni a giocare più in Azuma Eleven 2 lo sapete negli ultimi mesi e quindi già vedere questa grafica del 3 è un level up per me quindi fa sempre un piccolo effetto per me cambiare gioco poi Brass Wheating ha detto Gazelle Rubu che non ho idea di chi sia assolutamente però sembra essere carino e interessante Byron Love Paolo Bianchi Edgar Partinus grandissimo giocatore capitano coraggioso e pacato da sempre buon esempio impegnandosi al massimo Tego Torres Bellatrix Destra Khalil Kaleb Sam della Dark Emperors qui c'è puzza di codici ma va benissimo e l'ho fatto anche io nel 2 Axel Blaze Harley Robingo andiamo a vedere anche gli altri se ha un senso vedere Eric Minion Nathan Swift Kazon Cannon Skipper che da poco recluta anche nel 2 è un giocatore formidabile che sta qui con che mossa impara potrebbero essere le stesse effettivamente che impara nel 2 quindi nel Gio della Terra come quarta mossa poi abbiamo anche giocatori come Builder qua sicuramente c'è lo zampino dei codici mi pare poi non so non avendo mai troppo analizzato il gioco non so se Constant Builder si può prendere in maniera legittima oppure solo con i codici che comunque io le ritengo un buon modo Hector Helio bambino ma questo da dove arriva ma esiste si può ottenere Hector Helio così piccolo David Sanford Pan Kid detto Capricorn non so da dove arrivi pure lui un tipo tranquillo a cui piace se ne cade nei prati probabilmente fa parte dei giocatori mappa contatti Sion Scott Damon Sumner per un attimo io ho Lessie Sumner e pensavo si riferisse al giocatore stagionale in difesa invece un altro giocatore stranissimo Giulio Acuto Dylan Kids Maria Antonietta questa nel 2 mi ha fatto dannare per ottenerla nella mappa contatti poi abbiamo Caleb Stonewell la seconda versione non so cosa si intenda Felt idem probabilmente si fa riferimento a la versione Dark Emperor che però non so come si possa ottenere magari si riesce tranquillamente non lo so è solo che il 3 lo conosco poco ecco Gen Miniverde da Gemini stranissima particolare Key Will Ving Rice Olivia Baker ma io non l'ho mai viste questi qua non so a dove arrivino Xavier Foster abbiamo qui appunto Ettorelio Sean Frost Nero Woody Prince carinissimo sembra molto Arion solo che Arion sarebbe poi arrivato l'anno dopo insomma nel gioco dopo Julian Rousseau bellissimo questo giocatore peccato che io mi sia appassionato al 2 perché nel 3 c'è Rousseau c'è Partinus c'è Robingo c'è Torres giocatori bellissimi formidabili da giocare per me Harshell Deville Max e Todd versione Dark Emperors direi così come Jim Shadow Garrett Flair Hoser Bobby Shearer Steve Kevin Archer Nelly Comer insomma una maria di giocatori anche Cammy Silvia Dionisus c'è anche George Winters voglio vedere la mappa Contatti cosa sei riuscito a fare c'è il mitico Nathan anche in versione Dark Emperors che impara l'Excalibur glielo hai messo a te non penso la impari wow e poi una serie di giocatori comunque conosciuti Mark Kruger Afrodite la seconda versione non so a cosa si riferisca Artemis Isaac Polk e beh grandi giocatori ecco qua Sumner io mi aspettavo di vederlo prima con ali di fuoco Sumner impara ali di fuoco nel 3 non lo sapevo la Madonna Kevin con la galassia addirittura mamma mia Autumn penso top portiera anche nel 3 Ton Nino non so chi sia sembra sembrano giocatori finti questi qua quelli che non conosco perlomeno Jordan Horse Pinnut Quagmire Inigo Shown versione bambino con la sciarpa quindi in difesa interessante pure lui e poi Mark ah Nakata con la retina Zuma tra l'altro non ha Neo Galaxy non ha Neo Galaxy come è possibile sta storia strano parlo io che gioco al 2 non al 3 però ecco mi ha fatto un po' di strano pensavo lo imparasse anche nel terzo capitolo invece no Astaroth e Ossinobs beh devo dire una formazione di tutto rispetto giocatori qualcuno che manco conosco voglio vedere velocemente la mappa contatti ah è stata comunque fatta anche il download il segreto perché i giocatori di questo tipo si possono sbloccare solamente con quelle funzioni e vabbè devo dire un salvataggio anche ben fatto in questo punto di vista non li ha tutti ma comunque una buona parte adesso ci andiamo a fare un amichevole dove essa possiamo farla ecco secondo me la partita migliore da fare è contro la Chaos che tra l'altro pure a grado S lui riuscì a vincere al tempo quindi probabile anche io ci riesca all'interno di questo amichevole mi sfugge il perché manchi questa squadra però a quanto pare serve un oggetto dunque noi andremo a rifidare la Chaos così ripeto per omaggio per ringraziamento nei confronti di chi mi donò il salvataggio e quindi la schedina che è quello che a livello collezionistico io ambivo a ottenere il gioco di fatto lo conosco bene o in Atomale mentre Ogre o Lampo Folgorante con questo chiudo la trilogia del 3 che poi è sempre lo stesso gioco ripetuto tranne delle particolarità soprattutto in Ogre bella squadra comunque l'avevo già detto prima però vederlo adesso all'interno del campo non è male Raman in porta Torres Harley Kane Rubu in difesa però non è particolare poi vederlo a 52 ho paura che la Chaos mi apra Erculo però speriamo di no Sam centrocampo è fantastico io lo amo Destra che comunque non ricordo in versione di gioco si può sottenere ma mi pare a quanto pare qua in fuoco esplosivo mentre in Lampo la squadra di Sahel poi Edgar ovviamente in attacco con Gazelle e con la divisa direi quella della Genesis non mi ho derrato poi Jude Axel Bilal Khalil Byron Love e Bellatrix grande squadra forse un po' troppi attaccanti hai messo in riserva dimmi che non si è al 90 ah ok al 52 d'accordo io purtroppo vi fa capire questo quanto io conosco poco il gioco delle amichevoli del 3 di fatto ne feci pochissimi in vita mia quindi facciamoci un po' una partita vediamo come questa squadra gira se c'è qualcuno che particolarmente mi può interessare voglio provare a far tirare destra perché per me è sempre un piacere farlo con raggio ombra insieme a Partinus che super mossa sono quelle mosse che secondo me cominciano già a essere esagerate però sembrano molto belle intendo esagerate con paragonata a Tornano di Fuoco alla Tormenta di Fuoco alla Tormenta Glacciale tutte quelle mosse facendo parte un po' del primo capitolo massimo del secondo rimani un po' spiazzato almeno dal punto di vista nel vedere mosse così particolari così esagerate secondo me però sembrano molto belle per me si tocca l'esagerazione e quindi si va oltre un po' il classicismo la normalità del gioco in Azoom Eleven quando subentrano i spiriti guerrieri dal Go secondo me posso definire questo un parere oggettivo perché è così hanno voluto giustamente calcare la mano al tempo quelli i ragazzi giapponesi che hanno portato avanti il manga e quindi l'anime e quindi il gioco ovviamente è una catena però io preferisco i primi tre capitoli in assoluto infatti ne da prova anche il fatto che io stia giocando e voglia platinare il 2 e poi in un domani se dovessi scegliere un gioco anch'esso da completare non per forza platinare ma perlomeno completare sarebbe il 3 in particolare in Azoom Eleven 3 Ogre perché è il più completo anche il futuro quando subentrano i totem quindi nel galaxy i miximax sincrono stones le tecniche anche allegate perché cominciano ad essere tecniche non secondo me farina del proprio sacco che si aveva all'inizio in maniera creativa e genuina non lo so è un po' come i telefoni gli smartphone io sono un tipo nostalgico è un po' come i fumetti ecco in ogni tipo di di oggetto si può prendere questo concetto secondo me ovvero negli smartphone secondo me un tempo c'era più creatività più originalità idem nei fumetti di topolino per esempio delle storie memorabili che andrebbero lette a priori che tu sia un lettore del topo o un lettore di manga o un lettore di libri o un collezionista di tazze per dire no stesso discorso prima Azoom Eleven per me è un gran gioco l'uno vabbè è un pochino limitato hai poche zone pochi giocatori da reclutare ne conosci altrettanto pochi il 2 per me per affetto personale ma per me è già un ottimo gioco e il 3 secondo me è il gioco definitivo quindi oggettivamente so essere oggettivo e dico che 3 è migliore del 2 certo però io preferisco senza ma senza dubbi per una mia sfera personale il secondo capitolo nel frattempo Ero Bingo insieme a Gazelle che prova il gaccio di fuoco evoluzione 1 bellissima mossa che nel 2 sarebbe possibile solo in accoppiata con Torce mi pare non so se è possibile cambiare il partner in ogni caso questo è un gran gol ma mi aspettavo andando i sotterranei della Raymond e quindi del centro sportivo del magazzino iniziale del club di calcio di trovare questo tipo di sfide sì ma a un livello più alto minchia velo di fuoco quanto non lo sopporto lo dico perché in una Zoom 11 2 è OP questa mossa e a quanto pare lo è pure nel 3 in questo caso però è Caleb a passare vabbè anche molto più forte con il vortice infuocato bellissima mossa tra l'altro devo dire anche le mosse sono ben allenate io però non andrò a giocare altre partite all'infuori di questa perché non ha senso comunque vorrei provare a portare avanti il mio salvataggio in Zoom 11 3 ogre con estrema calma perché prima c'è il 2 ovviamente e qui ragazzi una delle mosse più belle se non la più bella in assoluto del 3 è questa Excalibur di Edgar Bartinus ditemi il contrario o meglio parliamone ovvio il mio cuore perché io scendo sempre cuore e testa il cuore è la parte soggettiva la testa è la parte oggettiva questo è come la penso io a livello soggettivo è normale che io amando Shown alla follia come personaggio come giocatore come vissuto relazioni come attitudine come carattere come tutto ok io scelga la tormenta glaciale come mossa che io preferissi in assoluto perché per me quella mossa è così genuina è così forte allo stesso tempo che che avvengono i brividi ogni volta che la vedo ecco però oggettivamente se devo fare un discorso di testa per me Excalibur si può classificare non so se la prima in assoluto ma tra le prime tre più belle tra le prime cinque più belle di sempre sì e tra le migliori anche del tre fino al terzo capitolo per proprio l'idea che Bartinus tiri su questo piede e sferzi un pallone retto parallelo alla porta per me è superlativo è degno di nota è una mossa fantastica fatta da un personaggio altrettanto fantastico che comunque richiama un po' anche l'idea della spada e quindi dei re e regina la classica arma che viene usata in ambito reale per me d'altronde l'Inghilterra nel gioco di Nazum Eleven 3 è la location che preferisco sia come disegni perché per me è bellissima la zona della fontana il cavallo mi ricordo il cavallo bianco che c'è vicino al ponte anche solo il design e l'estetica dei personaggi e dei dei palazzi è stupenda e quindi sarà anche per questo motivo che io poi adoro Partinus non adoro l'Inghilterra come nazionale né nella vita reale né nel nel gioco perché non la conosco non so nessun altro non saprei dire chi c'è nell'inglese oltre ad Partinus purtroppo non venne molto caratterizzata quella squadra secondo me ma ci sta non è che si possono avere si può avere ogni giocatore che si conosca però sicuramente lui spicca assolutamente e qui intanto un inarrestabile Sam Kincaid cazzutissimo fortissimo prepotente cattivissimo con poggio di meteore passa anche tecnica più tra l'altro Sam è troppo bello io nel duo devo ancora ottenerlo ad oggi perché fa parte dei giocatori Dark Emperor che devo avere i punti carisma che mi mancano però sicuramente nel giro di poche settimane lo avrò e lo voglio allenare perché è l'unico insieme a Nathan forse anche più di Nathan che per me potrebbe avere un ruolo in squadra semplicemente perché è centrocampista non peraltro il fatto che abbia questo ruolo per me è fondamentale Nathan invece è attaccante paradossalmente non è difensore non impara neanche una mossa difensiva e mi interessa un pochino di meno ora non so sempre che moveset abbia però sicuramente molto valido come ho questa impressione più forte che Nathan perché io dico cazzo come è possibile che Nathan il giocatore emblema della difesa insieme a Jack nell'uno perlomeno nel primo capitolo che per me è quello che fa da cornice ad ogni altro capitolo in Zoom Eleven allora perché in quel capitolo Nathan è difensore poi si è terzino ala chiamalo come vuoi insomma è defilato ma è difensore di fatto e non gli dai una mossa difensiva non ce l'ha nel due neanche nel tre direi nel primo capitolo magari sì qualcosa magari di turbine difensivo ipotizzo nel due è un difensore che non impara mostri di difesa quindi ricapitolando il discorso di prima a me in realtà non piace la persona di Arkham però poi è fighissima c'è poco da dire questi cappelli così così sciolti meraviglioso proprio anche un bel ragazzo onestamente così come disegnato in pieno stile anime però come giocatore per esempio Sam lo reputo più importante più interessante più utile ecco poi se vogliamo unire l'utile al dilettevole e quindi alla bellezza ovviamente ti dico Nathan Swift Dark Emperors comunque Sam ha il suo fascino a me piace molto già mi piace diciamo relativamente non assolutamente ma relativamente al alla squadra primordiale mi affascina Sam perché è molto ingenuo un bambinone che si diverte comunque a giocare così in maniera un pochino casuale con persone che come lui giocare a calcio non hanno né voglia né interesse ci ricordiamo bene nel primo capitolo come anche Sam non è che era proprio il coraggio fatto a persona soprattutto quando arriva la Royal le prime partite eccetera però a me è rimasto nel cuore perché è l'idea di quel personaggio genuino sfigato perché è un po' così forse anche più sfigato di Will onestamente perché Will almeno è intelligente è furbo è scaltro nella sua idiozia lo è Sam invece da proprio dire che si è sfigato ecco però è quel tipo di persona che si riscatta perché arriva a cazzo a vincere Football Frontier non è l'ultimo delle coppe cioè è un po' come se lo sfigato di turno che hai in classe fra dieci anni arriva a vincere insieme alla squadra della serie A insomma quindi io ho profondo rispetto per Sam e riattaccandomi il corso di prima per questo io lo voglio avere anche la versione Dark Emperors nel frattempo ho voluto fare questo commento perché altrimenti avrei commettato la partita ma la partita è a senso unico non avrei detto nulla di interessante nulla di intrattenente quindi come sempre io preferisco parlarvi a ruota libera su una Zoom Eleven alla fine facendo paragoni confronti discorsi simili ad altri giochi eccetera e dicevo la partita comunque si sta mettendo nella direzione che è quello che mi aspettavo o meglio a vedere la squadra perché in realtà speravo che la Chaos fosse più forte e con questa gravità massima evoluzione tra l'altro bellissima mossa possiamo decretare direi la fine tra l'altro precisa al trentesimo circa di questa partita 7 a 0 Chaos umiliata avrebbero potuto farla più forte non so se esiste una Neo Chaos nel 3 lo scoprirò poi nel mio salvataggio qualche livello viene anche livellato appunto ma questo gioco adesso tornerà nella sua schedina verrà salvato per la prima e forse ultima volta da me il tempo di gioco mannaggia Gabriele potevi lasciarmelo preciso sui 100 invece a 99.12 e ballo pure così io ringrazio ancora tantissimo appunto il ragazzo che mi donò questo gioco di fatto me lo regalò spedì lui gratuitamente senza che richieda un soldo come dice lui affetto dei miei confronti come simbolo di ringraziamento e io ringrazio te ringrazio voi all'ascolto e tutti coloro che amano in Azum Eleven non per moda ma per passione da sempre dunque alla prossima e spero che questo piccolo video estemporaneo vi sia piaciuto ciao ciao ciao